Aspetta, aspetta, no vieni più di qua, eccolo qua. Mi becchi? Si vede? Allora era un sogno della vita e ho chiesto a Michele di passarmi il suo copricapo da cuoco. E' bellissimo, è bellissimo. Sai che mi sento importante in questo momento? Vieni più in qua, vieni più in qua, perché se non ti si vede. Vieni, entra. No, no, Michi vieni qua, vieni qua, vieni qua, Michi, vieni qua. Allora ti devo fare un'altra domanda, secondo te, questa è una domanda romantica, molto femminile, ma la voglio fare a te, perché è un cuoco, secondo me. Allora. Ha un cuore. Vieni più vicino a me. Un cuoco e un cuore, innanzitutto, perché se no non fa altre cose. L'anima gemella, secondo te, esiste? Sì. Io non l'ho trovata. Ah, vabbè, ma no. Attenzione, però l'importante è essere positivi, pensare che domani magari... Certo, domani, dopo domani. Con calma, però. Con calma. Un'anima gemella al giorno o una sola? No, no, un'anima gemella al giorno. Tu puntavi sull'una al giorno, secondo me, così a occhio. Chi lo sa. Dai. Comunque il cappello di cuoco, secondo me, funziona. Ci sta, ci sta. No, funziona nel senso che funziona a chiappi. Secondo me sì, secondo me sì. Chi lo sa. Non so perché.